Il futuro è già arrivato, almeno dal punto di vista dello sviluppo delle automobili o per meglio dire della tecnologia delle nostre auto. Perché, se un tempo potevamo solo sognare, ora viviamo una realtà del tutto strabiliante. Di che stiamo parlando? Di un qualcosa che solo qualche decennio fa vedevamo appena nei film e telefilm dedicati alla fantascienza o ad un futuro che chissà pensavamo non potesse arrivare. E invece, eccolo. Pronto per noi. Un futuro attualissimo nel quale le auto possono fare di tutto, e non parliamo solo e unicamente di presenza di sensori per i parcheggi, telecamere guida, GPS e sincronizzazione. Un futuro attualissimo nel quale se oggi le nostre auto ci aiutano nella guida con i vari sistemi di controllo e gestione quali il cruise control. Per fare solo una citazione, c'era in qualche modo da aspettarci che il passo successivo. Se oggi le nostre auto ci aiutano nella guida con i vari sistemi di controllo, ed è arrivato, è giunto fino a noi con la prima auto al mondo che dispone di guida autonoma del cosiddetto livello 4. Una tecnologia strabiliante, incredibilmente che cosa fa? L'auto fa tutto da sola, arriva dalla Cina, vanta una tecnologia da urlo, e si chiama GUE Robocar 01. Che cosa fa davvero questa vettura che sembra arrivare dalle pellicole dei film? L'auto arriva dalla Cina, vanta una tecnologia da urlo, e si chiama GUE Robocar 01. Che cosa fa davvero questa vettura che sembra arrivare dalle pellicole dei film? L'auto arriva dalla Cina, vanta una tecnologia da urlo, e si chiama GUE Robocar 01. Ovvero parcheggio, riesce a farlo in piena autonomia a 2 km di 2 km. La grande innovazione costeggia il muro di norme che ad esempio in Europa non permette di superare la guida autonoma di livello 2. In Cina invece il veicolo, elettrico, come detto è stato chiamato GUE Robocar 01 ed è l'elaborato della partnership tra Baidu e Jay. Il gigante che detiene gruppi come Volvo, Polestar, il veicolo, elettrico.